Sogno Champions per la Roma, addirittura 5 punti dalla Juve, 6 punti dall'Inter, è ovvio ovvio che la distanza c'è, però ormai il campionato sta finendo, il campionato sta finendo quindi bisogna giocarsene tutte così, anche con allegria, con spensieratezza, è una Roma che a me non piace, vince con 1-0, corto muso, però vince, vince e non perde da tantissimo tempo, ha trovato la sua quadra, questo servirà anche per l'anno prossimo, Mourinho adesso ha davvero la squadra in mano, piace, non piace, non ha importanza, quello che importa è che questa squadra sta seguendo Mourinho, è un 1-0 di quelli che ci stanno bene bene bene, lo metti nel piatto, ti dai 3 punti, saluti, te ne vai, certo, certo, io l'ho detto già da un bel po' di tempo, da un bel po' di tempo, ci sarà un grande rimpianto per la Roma e sarà quella partita persa con la Juventus, pensate che se la Roma non avesse perso la partita con la Juve sarebbe in pienissima lotta Champions, sarebbe in pienissima lotta Champions ed è già un risultato, perché ho detto tutto l'anno che Fonseca aveva fatto meglio di Mourinho, arrivato a questo punto devo dire che Mourinho sta facendo meglio di Fonseca, gli hanno comprato qualcuno in più ovviamente, c'è Abram, sono giocatori nuovi, questa è anche l'importanza di avere giocatori più giovani, giocatori più giovani, di smetterla con i giocatori vecchi, ma questo è quello che dirò domani, punto sul campionato, adesso ci andrà a vedere l'Inter Juventus, la partita non mi è piaciuta, ripeto, però è una partita che ha portato alla Roma quei 3 punti che gli servono, assolutamente, gli servono per sperare una qualificazione Champions o quantomeno anche Europa League, è una Roma che sta creando una squadra, è rognosa adesso la Roma, la Roma è una squadra rognosa da incontrare, perché è una squadra che sa giocare a calcio, che sanno le astuzie del calcio, conoscono il calcio, conoscono gli uomini, questa qua è una squadra che secondo me si è costruita bene, come l'anno prossimo diciamo, se si libera di alcuni personaggi e ne mette dentro in pancia altri che veramente vogliono giocare, che sono giovani, che hanno voglia, sicuramente l'anno prossimo la Roma può essere da secondo, terzo, quarto posto, sullo scudetto ancora presto, ne parleremo domani, perché mi sta impressionando questo filotto di non sconfitte della Roma, sta davvero impressionando e bisogna anche pensare che c'è anche una Conference League aperta, un risultato che eventualmente si arriva dal lustro alla Roma, vediamo, bravo Murigno fino adesso, perché quando io martello, martello, ma quando c'è da dire bravo, dico bravo, non è che abbia costruito chissà quale gioco, questa è la Roma, difesa e contropiede, un gioco che non mi piace, che secondo me non farà ciclo, tutto quello che si vuole, però se la Roma, se si trovano bene così, va bene, alla fine sappiamo che in Italia contano i punti e i punti stanno arrivando, brava, brava Roma e adesso ci andiamo a vedere il derby, questo derby d'Italia, io sono un po', io ve lo dico, sono un po' scazzato, ma tanto scazzato per quanto riguarda il calcio italiano, però piano piano stanno ritornando le partite, vediamo quello che succede, detto questo ragazzi, seguitemi su Instagram, dico ctn08 se volete, ovviamente iscrivetevi, mettete la campanella, alla prossima, ciao ciao!